Ci troviamo in compagnia della signorina? Anna Cosa ne pensa della manifestazione che si è appena svolta, si svolge ogni anno? Com'è stata organizzata da parte di Mercogliano e di tutto lo staff? Questo è il primo anno che facciamo questa manifestazione, ho deciso di partecipare per divertirmi e poi ci sono dei bei premi soprattutto Ci puoi spiegare i premi di cosa si trattano? La squadra prima classificata vince un viaggio a Mirabilandia, il secondo una cena al Pacello che è un ristorante di Mercogliano e il terzo una cena all'Epic Chef Da quanto tempo è iniziata la gara? Dalle 9 e meno un quarto E quante tappe sono state svolte più o meno? Dieci Tu dove ti sei piazzata durante le varie tappe? E non ci sono ancora i risultati, infatti fra poco tutti i responsabili andranno a deliberare e vedremo i risultati Quindi insomma è stata una bella iniziativa organizzata, ma è la prima volta che si organizzano? Sì E come pensi in generale delle feste che vengono organizzate così a Mercogliano e in generale? No, quelle poche cose che si organizzano si organizzano bene comunque Poi gli scout fanno delle belle iniziative ed è bello vedere che la gente partecipa Facciamo un saluto agli amici di Campania Facciamo un saluto agli amici di Campania